Buongiorno a tutti dal vostro affezionatissimo avvocato Maria Luisa Mistiaggia. Oggi parleremo degli unioni civili e del disegno Cirinna al Senato a novembre. Lo studio Mistiaggia è assolutamente favorevole sia ai matrimoni tra lo stesso sesso che alle adozioni con coppie dello stesso sesso. Questo perché crede nella famiglia come un'unione di persone capaci di amare e di aiutare i ragazzi a seconda delle proprie inclinazioni e dei propri desideri a prescindere dalla sessualità. Il disegno di legge ha importanti novità sia in relazione al contributo di mantenimento al convivente che ha alle trascrizioni e all'assenza del passaggio della separazione inesistente nel nuovo disegno di legge. Insomma due persone dello stesso sesso possono sposarsi, divorziare senza separarsi e incerta la possibilità di adottare bambini. Lo vedremo in relazione a quanto accadrà al Senato a novembre. Lo studio Mistiaggia è in grado di supportarvi in ogni vostra necessità. Vi aspettiamo sicuri di poter soddisfare le vostre esigenze. Grazie, a presto.